Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha tratto in arresto tra Portice del Colano, tre contrabbandieri e sequestrato oltre due quintali di sigarette. Nel corso della costante attività di prevenzione generale e controllo economico del territorio, le pattuglie del gruppo della Guardia di Finanza di Nola hanno notato un veicolo in uscita da un parcheggio condotto da un noto contrabbandiere. Dopo un prolungato inseguimento, la successiva ispezione del mezzo ha consentito di rinvenire 60 kg di Marlboro Gold e Winston, nonché la chiave di un furgone, in sosta nel parcheggio nei pressi della stazione ferroviaria Portice del Colano, all'interno del quale sono stati scoperti altri 148 kg di Benson & Edge, Winston e Marlboro Gold. Complessivamente quindi sono stati sequestrati 208 kg di sigarette di contrabbando e tratti in arresto in fraganza di reato due 64 anni, uno di Volla e uno di Ercolano e un 47enne di Ercolano, tutti con precedenti specifici. All'esito del rito direttissimo, i responsabili sono stati condannati a un anno e otto mesi di reclusione e al pagamento di una multa di 693.000 euro. Dall'inizio dell'anno il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato 163 tonnellate di sigarette, arrestato 27 persone, denunciando le altre 162. Dall'inizio dell'anno il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli